Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, altro passo avanti per la nuova tramvia di Viale Palmiro Togliatti. In Vitalia ha pubblicato la procedura di affidamento dell'appalto integrato per la realizzazione della nuova infrastruttura che collegherà Ponte Mamolo con Suba Augusta. La data di scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il prossimo 23 novembre. Dall'apertura dei cantieri sono previsti due anni di lavori. La nuova tramvia, 8 chilometri per 19 fermate più i due capolinea, dovrebbe essere pronta per il 2026 e permetterà lo scambio con la metro B a Ponte Mamolo, la linea C a 100 celle e la metro A a Suba Augusta, oltre che con la ferrovia FL2 sempre su Viale Togliatti. Gli ulteriori dettagli sono su RomaMobilita.it